per fortuna del gioinazzo Gabriele Gavioli e riconquista Turturro che viene atterrato, rigore rigore per il gioinazzo Novara se qualcuno si ricorda ha giocato anche un giovinazzese del Novara nel frattempo c'è un rigore a favore del tiro, è gol di Vega che pareggia quando manca un minuto e mezzo alla fine dell'incontro ancora gioinazzo con la Maria fallo, è il blu adesso con la Maria, tiro, fuori, fuori con la Maria ci riprova però non riesce a mandarlo in rete riparte Menendez, tiro in rete, vantaggio adesso del Novara con Menendez dopo cinque minuti di questo secondo tempo in fase di riconquista vedremo se cambierà qualcosa grandissimo gol dalla distanza di Paolo con la Maria un gol che non ha lasciato scampo a Bernardelli verso della sfera, brusa ancora il gioinazzo atterrato con un cartellino blu questa volta di Gavioli atterrato Tabarelli vediamo Tabarelli, Tabarelli, tiro e rete rete di Tabarelli Palla alta, palla alta ora ripartenza del gioinazzo si chiudono velocemente le maglie del Novara e adesso decimo fallo del gioinazzo a superarsi Maniero, tiro grandissimo veludo ancora veludo doppio veludo è riuscito a salvare Colamaria Amato superata la metà campo espulso espulso nel frattempo il giocatore del Novara Menendez il Novara ripartirà da dietro Petrocchi in possesso della sfera agganciato da Colamaria e blu blu per Colamaria cartellino blu probabilmente per la stecca alta di Colamaria io credo che non fosse tiro fuori grande veludo ancora una volta Francisco veludo parte Petrocchi per il Novara Petrocchi è gol gol di Petrocchi un diagonale che non ha lasciato scampo a veludo 3 a 2 per il Novara che ha intercettato alcune trame offensive pericolose del giovinazzo che sta gestendo bene per il momento il vantaggio intanto fallo di Colamaria ancora un blu perde la stecca brusa e dunque cartellino ancora pronti sbaglia anche Ortiz per fortuna del giovinazzo non allungano però rimangono lì i giocatori del Novara Biancoverdi ne approfitta la retroguardia decimo fallo questa volta questo è il decimo fallo Tapparelli tiro palo palo di Tapparelli non è possibile proprio non si riesce a sfatare riconquista Colamaria dopo un errore del Novara Colamaria e tirerete rete del 3 a 3 grande grande Colamaria grande Colamaria Amato e Vega in aria Vega riceve la pallina ancora atterrato tiro parata grandissimo parata di Veludo grande portiere a l'anima 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 Grazie a tutti